La collezione Zeffirelli riapre martedì 31 agosto con un omaggio a Piero Tosi, grande costumista amico di Franco Zeffirelli, a cui è stata dedicata in maniera permanente l'ultima sala del percorso museale, la sala 24, allestita sotto la supervisione di Pippo Zeffirelli, presidente della fondazione di Caterina D'Amico, in collaborazione con la famiglia del costumista, che ha messo a disposizione i premi ricevuti dallo stesso Tosi Durante la sua lunga carriera nella sala saranno esposti alcuni bozzetti realizzati per il film Traviata del 1982 e storia di una capinera del 1993, concessi dalla fondazione Gramsci e grazie alla fondazione Tirelli Trappetti. Saranno presenti anche due costume realizzati dalla Sartoria, l'abito di Violetta indossato da Teresa Stratas e l'abito di Giuditta indossato da Mia Fotargill.